In questo momento sono a Parigi e volevo consigliarvi un acquisto che ho fatto qualche giorno fa che mi ha già rivoluzionato la vita e che se ce l'avessi avuto in tutte le volte in cui ho viaggiato quest'anno mi sarei risparmiato un sacco di crisi, di problemi vari, ovvero ma voi ci avete fatto caso che aumentano i dispositivi elettronici ma le prese delle stanze degli hotel rimangono invariate quindi del tipo ce ne sono due o tre e magari, non so, si viaggia in almeno due persone o addirittura tre quindi ho un macello per caricare le cose, ecco L'altro giorno per caso ho trovato questo da Apple che voi mi direte mai fissi da un sacco di anni? Benissimo, io in realtà forse forse sapevo anche che esistesse ma non me ne ero mai più di tanto preoccupata invece mi ha già svoltato la vita, una sera che sono qua a Parigi già mi sento una donna nuova ovvero questo coso che serve, non è di Apple ma lo vendono da Apple per caricare contemporaneamente tre dispositivi ovvero iPhone, Apple Watch e cuffie tutti e tre contemporaneamente si attacca questo qui, quindi ha un unico filo e poi si attacca la presa, carica tutti e tre contemporaneamente senza rovinarli e via prendo una sola presa ma carica tre cose, tre cose essenziali che uno magari quando in generale non avrebbe tutti i giorni ma specialmente quando viaggia consuma molto più velocemente niente, è una cavolata, si, sbotta della mia vita, si, vi piace il cerchietto anche a me Amazon l'avevo visto da Cleo, argomento che non c'entra nulla ma ci siamo l'avevo visto da Cleo, Cleo se mi vede ti mando un bacio e mi è piaciuto moltissimo e l'ho preso, lo prenderai tutti i colori si